353 abbonamenti, 11 titoli per un incasso totale di 83.487 euro, con lo spettacolo Il Lago dei Cigni, ovvero il canto, a far registrare il guadagno più alto. Sono i numeri che contraddistinguono la stagione di prosa e di danza 2016 del Teatro Petrarca di Arezzo. È stato l'anno della riapertura dopo l'ultima stagione del 2004-2005. Il sipario è tornato ad alzarsi per un bilancio complessivamente positivo. Se si guardano anche i numeri degli abbonamenti di quest'anno, che sono 353, sono superiori al numero di abbonamenti staccati nelle ultime stagioni del Petrarca nel 2004 e nel 2005. Quindi di fatto gli aretini si sono riappropriati del loro teatro. Tra gli aspetti da rivedere, la scelta del doppio turno per alcuni spettacoli, che ha lasciato platea e palchi ben lontani dal tutto esaurito. L'ultimo atto della stagione 2016 del Teatro Petrarca è in calendario per giovedì 5 maggio alle 21. Un doppio appuntamento in ricordo dell'aretino Walter Fioroni, impresario il cui nome rimarrà legato a quello di grandi artisti del panorama nazionale. Si comincia con la commedia Parole, 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 promossa da on stage live che vedrà sul palco Carlotta Proietti e Matteo Vacca. Poi sarà la volta di Gigi Proietti che presenterà il suo libro De Camerino. Proietti, che poi riceverà il primo memoria al Walter Fioroni, presenterà il suo libro e sicuramente regalerà qualcuno dei suoi cavalli di battaglia proprio per amicizia nei confronti nostri per ricordare Walter. Spazio anche alla beneficenza con il ricavato della serata che sarà devoluto al centro di diabetologia di Arezzo. Nonostante la conclusione della stagione teatrale, il Petrarca si prepara ad accogliere altre iniziative. I ragazzini che hanno imparato a recitare o a ballare o a fare comunque spettacolo nelle varie scuole cittadine hanno chiesto e noi abbiamo concesso di potersi esibire per l'ultima volta del corso al Petrarca. Grazie a tutti.